I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria hanno dato esecuzione nelle province di Roma, Reggio Calabria e Sassari ad un'ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dalla giudice per le indagini preliminari nei confronti di alcuni membri di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di cocaina operante sotto la guida della cosca d'Indrangheta Bellocco di Rosarno. Il provvedimento giudiziario dispone l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di Oliveri Umberto Emanuele classe 87, Pepe Domenico classe 55, Galanti Alessandro classe 81, Ponziani Antonio classe 85 e La Rosa Alessandro classe 78. Gli stessi sono ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti per essersi associati tra loro in un gruppo criminale articolato su più livelli, comprensivo di squadre di operatori portuali infedeli allo scopo di commettere più delitti concretizzati si poi nel reperire e acquistare all'estero, importare e trasportare in Italia attraverso navi in arrivo al porto di Gioia Tauro e in altri porti nazionali nonché commercializzare ingenti quantitativi di stupefacente del tipo cocaina. Il tutto con l'aggravante della trasnazionalità e dell'aver commesso i fatti al fine di agevolare una cosca d'Indrangheta, quella dei Bellocco operanti a Rosarno. L'operazione di polizia convenzionalmente denominata Balboa rappresenta l'epilogo di una complessa attività investigativa svolta dalla sezione Goa del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Reggio Calabria. Il gruppo sarebbe stato capeggiato da Oliveri, Umberto e Emanuele e Dominus alla continua ricerca di cocaina da far giungere nel porto di Gioia Tauro dal Sud America e dal Nord Europa. Lo stesso è legato da stretto vincolo parentale a Bellocco Umberto classe 37. Entrambi ritenuti partecipi, il Bellocco con ruolo di vertice, all'omonima cosca. Nel dettaglio, secondo i ruoli accertati nel corso delle articolate investigazioni, oltre a Oliveri, emergevano le figure di Galanti Alessandro, ovvero il proprio broker internazionale in contatto con i narcos produttori esteri della sostanza stupefacente. Dilarosa Alessandro e Ponziani Antonio, impegnati a coadiuvare Oliveri e Galanti nell'organizzazione delle illecite forniture, nonché di Pepe Domenico, uomo di fiducia, che si occupava anche egli dell'acquisto e dell'importazione della droga. Giunta in Italia al porto di Gioia Tauro, la cocaina, occultata attraverso i container e imborsoni, veniva poi e sfiltrata da operatori portuali infedeli, incaricati dall'Oliveri di recuperare lo stupefacente. A riguardo, nell'ambito dello stesso procedimento penale, sono stati complessivamente sottoposti a sequestro 527 panetti di cocaina purissima, per un peso complessivo di oltre 598 kg. Nonché sono state ricostruite plurime e ulteriori importazioni di stupefacente, per complessivi 312 kg di cocaina. I soggetti arrestati stamane sono stati ristretti su disposizione dell'autorità giudiziaria presso le competenti case circondariali. L'operazione Balboa ha ribadito l'importanza strategica assunta nel tempo e per le consorterie criminali di stampo mafioso del porto di Gioia Tauro.